Con un Senato meno forte il rischio che ci siano delle derive di tasse, delle derive che impoveriscono ancora di più questo Paese è dietro l'angolo. Noi vogliamo un Senato forte ma soprattutto eletto dai cittadini. La si smetta di far credere agli italiani che con le riforme si risolvono i problemi di questo Paese. Dopo le riforme, qualunque se siano, ci saranno sempre 10 milioni di poveri e le piccole e medie imprese in difficoltà. Grazie.